presentato da artissima al catalogo di vitrine progetto artistico sviluppato con la galleria d'arte moderna si tratta della proficua unione avvenuta nel 2013 di due iniziative ovvero vitrine promossa dalla gam e finalizzata da revisibilità la giovane ricerca artistica sviluppata in piemonte e alle radici della democrazia mostra che il consiglio regionale comitato resistenza e costituzione allestito a palazzo lascris già negli anni passati in concomitanza con la festa della liberazione devo dire che è una presentazione particolarmente significativa perché avviene in un tempio particolarmente caro all'arte contemporanea quindi riteniamo che sia il momento più idoneo per suggellare questa presentazione ma soprattutto per anticipare che fortunatamente siamo riusciti con grande sacrificio a trovare le risorse anche per l'edizione del 2014 noi ci auguriamo che questa presentazione possa essere comunque il suggello di una continuazione di un operato che parte ormai da diversi anni e che vede impegnati gli artisti selezionati piemontesi grazie a tutti grazie a tutti